Una stagione ad alto livello nel mondiale, un bilancio? Sì, in questa stagione qua io ho imparato moltissimo grazie all'aiuto di Claudio Bortoletto e del mio navigatore Simone Scatolin perché a portare a termine le gare del mondiale non è semplice, bisogna anche imparare ad andare piano in alcune occasioni. Simone, hai detto di andare piano spesso? Non sembrerebbe. No, diciamo che piano non è proprio adeguato, diciamo che bisogna gestire a volte, soprattutto sulla terra, bisogna stare un po' attenti a doversi mettere le ruote, però direi che non siamo andati proprio piano. E per il 2016 iniziamo da Fabio? Il 2016 vedremo, decideremo dopo il supercorso, speriamo di continuare il programma nel mondiale. Simone? Come avete ufficializzato voi, correrò con Lorenzo Bertagli nel mondiale, dobbiamo fare quasi tutte le gare e iniziamo questa nuova avventura.